Ciao a tutti, sono Andrea Ravelli, istruttore nazionale di sci alpino e guida di Giacomo Bertagnoli. Per chi non ci conoscesse, Giacomo Bertagnoli è un atleta paralimpico ipovevedente che fa parte della Nazionale Italiana Paralimpica. Io sono ovviamente la sua guida. Sciare davanti a Giacomo è fortemente emozionante. Io e lui è come se fossimo un atleta unico, una persona sola e comunichiamo tramite questo interfono inserito direttamente nel casco. Ci conosciamo da tre anni, entrambi facciamo parte del gruppo sportivo Fiamme Gialle e compiamo gli anni tutti e due il 18 gennaio. Oltre ad essere la guida di Giacomo negli allenamenti a casa, mi occupo anche della parte tecnica e come potete vedere anche del materiale. Credetemi, c'è tanto lavoro da fare. Fortunatamente, avendo avuto un passato da atleta professionista, non temo che Giacomo mi possa superare, anche se devo ammettere che in slalom molte volte devo spingere veramente al massimo per poter sostenere i ritmi che ha raggiunto questo grande atleta negli anni. Un grande saluto a tutti, un abbraccio. Noi siamo in partenza per Pechino. Noi siamo in partenza per Pechino.